Mia madre mi aveva messo una cinepresa in mano e mi ha detto arriva un essere molto importante devi subito fare la cinepresa Roberto Assaggioli era teosofo Lui ha fatto questo enorme sforzo di tradurre tutti questi libri della teosofia esoterici eccetera con un linguaggio scientifico Tutto il percorso della psicosintesi può essere racchiuso in una formula di tre parole conosci, possiedi e trasforma ovvero conosci, possiedi e trasforma te stesso Lui da scienziato dello spirito ha dato l'opportunità a tutti di verificare il funzionamento interno della psiche Fin dal primo incontro mi dette delle chiavi di apertura per la psicologia e per una visione del mondo senza che io me ne rendessi conto Fin dal primo incontro mi